Riconoscere e fare proprio come assunto di vita il fatto che le scelte alimentari influiscano notevolmente sul benessere psicofisico della persona per poi passare ad un secondo step, la consapevolezza che il mangiare con gusto deve essere implementato in una corretta condotta alimentare. Sono questi alcuni degli spunti arrivati dal convegno organizzato dall'Associazione Italiana Donne Medico alla Mezzia Terme e dal titolo l'alimentazione appropriata per il benessere psicofisico nelle varie fasi della vita. Un incontro realizzato in collaborazione con Slow Food la Mezzia, simbolo del mangiarsano, genuino e a chilometro zero e promosso anche dalla Mezzia Wemfest insieme a importanti aziende calabresi. A portare i loro contributi sono stati diversi professionisti, da Antonello Rispoli, presidente della locale sezione di Slow Food, ai medici Renata Tropea, Elisabetta Priolo e Mirella Critelli, che hanno nei loro interventi sottolineato lo stretto equilibrio tra fattori genetici, fisiologici e patologici e scelte alimentari. Tesi avvalorate dalla ricerca che ha dimostrato come le condotte alimentari talora rafforzate da stili di vita non opportuni possano essere se stesse fattori scatenanti o predisponenti patologie. L'evento è stato patrocinato dalla Regione Calabria, la provincia di Catanzaro, il comune di La Mezzia Terme e dalla Camera di Commercio e l'Ordine dei Medici di Catanzaro.